Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e coda verso Sud tra Firenze e Pruneta e Firenze Sud. Sulla Firenze Mare restano codi a tratti per traffico tra Pistoia e BV111 in direzione di Firenze. In FIPD traffico sostenuto tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta in direzione del capoluogo. Uno sguardo al traffico urbano del capoluogo, rallentamenti sulla direttrice Porta al Prato Fortezza, traffico sostenuto in via Sestese e Viale 11 Agosto e all'altezza di Porta Romana. Nell'ambito dei cantieri Tranvia per interventi di protezione dei binari in corrispondenza dell'incrocio Via di Novoli-Via Paganini, quest'oggi in orario 9.17 è previsto restringimento di carreggiata in Via Paganini in corrispondenza dell'incrocio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!